vedremo il trailer del Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077 della CD Projekt della saga The Witcher da CD Projekt The Witcher The Witcher's owners, developers e questo è uno dei giochi più aspettati Penso che uscirà nel 2016, non prima ma è uno dei giochi più attesi forse del prossimo anno il trailer è fantastico meraviglioso spettacolo il suo gioco sarà super gothic super hype noossa ah CD Projekt CD Projekt is the top in the world migliori al mondo ok see you soon ci vediamo presto speriamo vediamo il trailer fino alla fine eh coming soon ok ok ok